Spettacolo! Com'è? Ma spettacolo! Eccoci! Gli esperimenti continuano sia sul forno che sugli impasti. Questo qua è un impasto no need. Non l'abbiamo impastato, l'abbiamo messo ieri sera. Come vedete è più grezzo degli altri impasti, meno raffinato. E sentiamo com'è, com'è l'impasto. Bordi di focaccia! Spettacolo! Com'è? Ma spettacolo! Forno di casa. Forno Alfa One a gas. Adesso vediamo, vi faccio vedere anche la cottura sotto perché ho l'impressione che rimangano più chiare. Quindi più morbide. Ci vediamo alla ricetta ufficiale su Bordofcaccia.com Spettacolo! Com'è? Ma spettacolo! Sono troppo contento, è veramente un spettacolo!